Ciao ragazzi, bentornati! Bentornati in un nuovo video e bentornati in un nuovo appuntamento di cose che costano poche e che comprerai al doppio del prezzo o, se va male, cose che non riuscirai praticamente a comprare già sappiamo di che cosa stiamo parlando perché l'avete letto dal titolo ma prima di iniziare, ovviamente, iscrivetevi al canale, lasciate un like e attivate tutte le campanelle giù in descrizione c'è il nostro link per unirvi ai canali Telegram delle offerte e c'è anche il nostro gruppo Facebook dove ci divertiamo a fare battute e a prendere in giro cose che in questo momento ci stanno molto molto sulle scatole allora, se oggi era ieri e voi vedete il video domani l'altro giorno, con una bellissima presentazione live, MD ci ha presentato la sua ultima scheda ovvero la 6700 XT che tutti quanti noi stavamo aspettando ora, lo so che già tutti i miei colleghi, bene o male, in questi giorni hanno parlato di questo evento chi in maniera più divertente, chi in maniera meno divertente ma, ehi ragazzi, come potevo io non farvi un contenuto anche sull'ennesima scheda che esce sul mercato in questo periodo e non potevo, diciamo, tirarmi indietro e quindi, eccomi qua allora, parliamo un attimo, velocemente, della cosa meno interessante ovvero delle specifiche di questa scheda che dalla presentazione di AMD non si è capito se è una scheda che va più forte di una 3070 va meno di una 3070 se va quanto una 3060 Ti se va meno di una 3060 Ti in alcune slide l'hanno comparata alla 2080 Super e addirittura alla 1070 Ti è capito un cazzo perché probabilmente neanche loro hanno ben chiare le idee di quanto questa scheda possa andare penso che la maggior parte dei test, quindi tutte le cose che avete visto nella presentazione siano dei test effettuati rigorosamente senza DLSS quindi senza tutto quel pacchetto di futures che Nvidia in questo momento ci mette a disposizione che penso che alla maggior parte di voi facciano comodo una scheda con soli, si fa per dire, 40 compute unit quindi stiamo parlando, per farvi capire, della metà delle unità computazionali che invece ha, per esempio, una 6900 XT e ha delle frequenze mostruose perché arriva a toccare i 2500 MHz già nella versione Founders ce le ho segnate le cose, le devo leggere e 12 GB di RAM che ovviamente, cazzo ce ne facciamo, servono a niente nonostante loro in una loro slide abbiamo fatto vedere che alcuni giochi addirittura in 1440p a dettagli maxati arrivano a saturare 10 GB di RAM ma non ci credo manco se lo vedo io con gli occhi miei e infine un TDP di 230W che voglio dire, non sono mica bruscolini è una scheda che consuma un pochettino prezzo finale e qui viene il bello dovrebbe essere 479 dollari che passato in euro ha aggiunto l'IVA ha aggiunto il prezzo scalper ha aggiunto il rincaro che alcuni store fanno già di loro mettono le schede 100 euro in più noi sicuramente questa scheda dovremmo vederla di regola prezzo consigliato AMD con tutte le custom e varie cose intorno alle 500 euro ma io sono sicuro che questa scheda supererà abbondantemente le 600 euro ovunque tranne che vabbè ma su quello ovviamente come facciamo a dimenticarcelo tranne se non lo compriamo dal sito AMD con la sua versione diciamo reference che AMD ha dichiarato essere in stock sarà in stock a partire dal 18 di questo mese in maniera più sostanziosa ora il mio primo pensiero è se le 6800 6800 XT 6900 XT e tutte quelle schede bellissime là le abbiamo viste esattamente per 10 secondi ci abbiamo provato a comprarle veramente le abbiamo comprate forse il 3% delle persone che avevano intenzione di comprarle io non lo so immaginare come sarà facile sarà un gioco proprio così vai là ti siedi apri il sito AMD metti nel carrello e compri io ho i miei seri dubbi che riusciremo a comprare le founders cioè le reference sul sito AMD e ovviamente ho dei dubbi che le custom che tra l'altro già sono state presentate già sono online alcune foto di custom verranno vendute ovviamente a dei prezzi molto superiori a quelli che sono i prezzi consigliati a AMD ragazzi sarà così scordatevelo uscite fuori da qualsiasi pensiero che voi riuscite a comprare queste schede sotto i 500 euro una cosa molto interessante è che giustamente sia AMD ma anche Nvidia diciamoci la verità ultimamente stanno ponendo l'attenzione sul fatto che la domanda è ancora cresciuta ancora in maniera diciamo incommensurabile tanta gente su Amazon le schede durano due secondi scasse botto ovunque che cacciano droppano notifiche queste schede vanno a ruba ma quanti ne siamo ma quanti gamer siamo tutti questi gamer che cercano schede queste schede saranno puntate subito puntate ovviamente da tutta quella schiera e già vi vedo là ti vedo a te scalperone che non sei alto tu che non sei non hai mai fatto un acquisto mai fatto un investimento e adesso da mesi sei diventato uno scalperone anche tu saranno puntate ovviamente da quella gente che di fatto non ha bisogno di una scheda video ma che le compra per rivenderle fondamentalmente infatti queste schede andranno sul sito AMD staranno lì 15 secondi forse se siamo fortunati un minuto e dopo praticamente in meno 5 minuti inizieremo a vedere tutte le bellissime inserzioni su ebay sì di schede comprate a 480 magari a 490 rivendute a 600 euro e quindi il prezzo amici miei non sarà mai mai quello di AMD sempre che voi non abbiate un culo così che la riuscite a beccare sul sito la reference e quindi questa è sarà divertente vedere come al solito come si evolverà la situazione noi siamo io so qua sarò in live sul canale viola voi se non mi seguite seguitemi sul canale viola perché vedremo sicuramente questa scheda appena andrà sul sito se riusciremo a comprarla ora a parte gli scherzi volendo essere un attimo seri che scheda è e chi dovrebbe acquistare questa scheda sicuramente il gap con Nvidia c'è ancora e su questa scheda bene o male io ho grosse aspettative dal punto di vista delle performance non ne vedo se andiamo a parlare di quelle che sono le futures che Nvidia ha con il DLSS con il ray tracing e tutto il rasterizzazione che sarebbe semplicemente per farvi capire la scheda giocare senza ray tracing eccoci qua parliamo proprio pane e puparoli questa scheda dovrebbe essere una buona scheda per giocare sia in full HD a refresh rate elevati che in un 1440p a dettagli alti con dei refresh rate decenti è ovvio che questa scheda strizza l'occhio per il prezzo a cui dovrebbe essere venduta a tutte quelle persone che magari fanno non lo so titoli e sports oppure giocano competitivo lì dove non vogliono fronzoli non hanno necessità di DLSS ray tracing e cose varie vogliono le performance nude e crude della scheda e quindi magari sarebbe un'ottima soluzione per tutte queste persone che se il prezzo fosse effettivamente quello sotto le 500 euro per una scheda che non si è capito forse va quasi quanto una 30-70 su alcuni giochi non sarebbe male ma il discorso vi ripeto è sempre lo stesso ovvero i prezzi sono ballerini e una grossa fetta di acquisti che vengono fatte su queste schede non sono di persone che comprano schede per giocarci e ne comprano una ma sono persone che stanno lì e comprano compulsivamente perché hanno qualcosa da investire e poi rivendono queste schede a dei prezzi maggiorati per scazziarsi diciamo così nella Napoli si scazzeano il 100 euro e si fanno qualche cosa ok di soldi noi ci vedremo in un prossimo video dove vi farò vedere una regina ve ne faccio vedere metà mi ci metto con il mento so perché attualmente oggi questa è un pilastro sul quale vi potreste poggiare tranquillamente in questo periodo la vedremo in un prossimo video io vi ringrazio se siete qui con me vi iscrivetevi al canale andate giù in descrizione e noi ci vediamo in un prossimo video ciao